Prima cosa da fare per poter studiare in poco tempo è prendere gli appunti. In questo modo manteniamo la concentrazione e poi ci serviranno per gli schemi. Prima cosa prendere gli schemi, andare a cercare la pagina che abbiamo seguito in classe. Prendere il libro e iniziamo a leggere l'argomento trattato in classe, sottolineando le parti spiegate meglio o da aggiungere. A questo punto rileggiamo anche gli appunti. Scegliamo il colore per il titolo, io di solito scelgo sempre lo stesso in base all'argomento. In questo caso è rosa. Scriviamo il titolo che corrisponde con l'argomento principale trattato e andiamo a trascrivere gli appunti aggiungendo le parti che mancavano prese dal libro. Per abbreviare e usare la memoria possiamo usare dei signi come questo per fare un confronto con qualcosa di diverso. Inoltre per aiutare la memoria è buona cosa fare molti elenchi puntati Come in questo caso, dividiamo la frase in due punti. Ed ecco il risultato.